Capitolo 17 degli Atti degli Apostoli Paolo di Tarso incontra gli intellettuali di Atene nell'Areo Pago, l'aula delle loro riunioni, e dialogando con loro fa il primo importante tentativo di inculturazione della fede cristiana nel mondo greco. L'incontro vitale tra il Vangelo e le aree culturali più diverse sarà, lungo tutti i duemila anni della sua storia, uno degli impegni più importanti della Chiesa e la sua missione specifica. Gesù di Nazareth l'ha creata per questo. L'avventura continua, anche qui nel nostro mondo. Ben trovati all'Areo Pago. La puntata di questa volta è occasionata da una richiesta di un telespettatore, meglio di una telespettatrice. Il Timor di Dio, uno dei sette doni dello Spirito Santo. Signore, buonasera. Buonasera. E gli altri sei? Oddio. Ne abbiamo già parlato recentemente. I doni dello Spirito Santo. Quelli ufficiali del Catechismo sono sette. Ed è un elenco tolto dal libro del profeta Isaia, quando il Messia parla di sé e dice «Lo Spirito Santo sarà su di me, Spirito di sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, di scienza, di pietà e di timore di Dio». Però questo è uno degli elenchi, perché ovviamente lo Spirito ha molta fantasia e molta generosità. Ci sono quindi diversi doni dello Spirito Santo enunciati nella Bibbia. C'è un elenco molto bello nella Lettera ai Galati di San Paolo, dove dice «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé». Ce n'è finché ne vogliamo noi. È bellissima la seconda storia di questa parola. A me piace moltissimo. È molto bello. A me piace il Salmo, però noi parliamo di «Il timore di Dio». Il Salmo 111 cita «Beato l'uomo che teme il Signore». Allora, questo Signore qui è nostro Padre, bontà infinita, poi salta fuori, beata l'uomo che teme il Signore. Un po' di incongruenza sembrerebbe o no? Ecco, mi piace che abbia detto il motivo della meraviglia. Ecco, secondo me invece non c'è incongruenza, perché ovviamente bisogna vedere nella Bibbia tutti gli aspetti riguardanti Dio. No. Uno degli aspetti principali che viene fuori dalla Bibbia è che il Signore, nell'Antico Testamento, non è come gli altri dei, che poi non ci sono neanche. e nel Vangelo viene fuori che Dio è Padre. Ora, quando si parla di timore di Dio non si deve mai perdere di vista questo. Dio è Padre, come dice lei, bontà infinita, che è una sorgente continuamente emanante, amore, misericordia, vita, eccetera. Come si può avere timore di una realtà così, di una persona così? Ecco, è come verso il papà. Anche il papà più buono non può essere preso sotto gamba. C'è quella che viene chiamata la soggezione, ma nel senso positivo del termine. Non una soggezione di paura, ma una soggezione di rispetto, di venerazione, di ammirazione, di timore di perdere questo rapporto. Della volta ci sono dei bambini angosciati dalla paura che il papà non ritorni, no? Che di aver perso la fiducia dei dei. Una delle ragioni, per esempio, di rovina dei ragazzi nella crescita è quando non sentono un rapporto di fiducia da parte del papà. Ecco, noi il rapporto di fiducia nei confronti di Dio non lo dobbiamo mai perdere perché la Bibbia, la storia della salvezza, è piena delle meraviglie della misericordia di Dio. E quindi è addirittura, quanto più io ho coscienza di questo, tanto più la tengo cara e mi dispiace. Non vorrei mai fare un dispiacere al Signore. Cito io Luca e lo leggo. Ovviamente, Luca. In Gesù risplende il timore nei confronti di Dio che è obbedienza assoluta alla volontà del Padre e lo spinge a prostrarsi nell'olto degli ulivi pregando così Padre, se è possibile allontana... Questo è Luca. Padre, se è possibile allontana da me questo calice tuttavia sia fatta la tua e non la mia volontà. Uno dei segni di quella soggezione di cui dicevo prima è l'obbedienza, la docilità. Non l'obbedienza del servo, punitasi, ma l'obbedienza del figlio che vuol bene al papà, che ha dispiacere di fargli dispiacere. Se lei pensa che Gesù è maestro e salvatore dell'uomo, se facciamo un passo indietro, il peccato originale, che è la causa della rovina dell'umanità, è proprio un atto di disobbedienza. È l'escludere Dio senza nessun timore, senza nessun riguardo. E la conseguenza qual è? Quello che Dio aveva detto se non ascolterete morirete. Che non è una minaccia, è un avviso paterno. Guarda che se non fai quello che ti dico tu andrai a finire male, non per punizione mia, ma perché è così. Allora noi siamo nei guai per la disobbedienza, per la mancanza di timore di Dio in senso positivo. Gesù è maestro e ci insegna l'atteggiamento. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. E nel momento supremo, nella tentazione suprema in cui lui deve prendere posizione a riguardo della sua vita e della sua missione, è tentato di sottrarsi perché di fronte a una morte tragica, umanamente, e allora lui dice se è possibile passi da me questo calice. Ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E la lettera agli ebrei dice che noi siamo stati salvati a causa di questa disobbedienza, di questa obbedienza che a Gesù ha costata forti grida e lacrime. Ha usato due sostantivi obbedienza e l'ha definito docilità. Mi faccia capire che cos'è docilità perché qualcuno non intenda che docilità vuol dire essere pecora. Quando noi abbiamo fatto la puntata sul Buon Pastore abbiamo fatto, abbiamo visto che le pecore che seguono il Signore sono tutt'altro che dei pecoroni perché conoscono la voce del padrone, conoscono il padrone, lo seguono con fiducia, si lasciano condurre dove lui va e non seguono invece quelli che loro non riconoscono come pastori di cui non riconoscono la voce. Quindi la docilità è una docilità intelligente, consapevole e quindi tutt'altro che da pecoroni. Alfiere, si diceva una volta, oggi si direbbe testimonial del timor di Dio è San Giovanni Bosco, figura importante nella Chiesa, figura importante, mi permetta, nella sua famiglia, figura importante, più volte citata, da lei. Testimonia del timor di Dio, San Giovanni Bosco. E' vero, San Giovanni Bosco è un educatore ed è un educatore non in base a filosofie, ma in base all'imitazione di Gesù Cristo. Lui si colloca in mezzo ai giovani come un pastore e quindi imita Gesù Cristo. Quindi la regola fondamentale per l'educazione cristiana è l'obbedienza. L'obbedienza alla volontà di Dio, ai comandamenti di Dio, alle indicazioni di Dio e della Chiesa. E lo fa però in un modo coerente con il buon pastore, per cui non incute minacce, terrore con minacce di chissà che cosa. E uno dei frutti più belli dell'educazione operata da San Giovanni Bosco è San Domenico Sabio, il quale, educato bene da Don Bosco, nei suoi propositi della prima comunione dice la morte ma non peccati. E lo dice per il rincrescimento di dare dispiacere a Dio piuttosto la morte che dare un dispiacere al Signore. E per dire che non c'è terrore in questo verso Dio dice i miei amici saranno Gesù e Maria. E ancora per dire l'atmosfera di gioia che Don Bosco ha messo in questa educazione al timor di Dio. Domenico Sabio dirà un giorno a un nuovo allievo dell'oratorio guarda che noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Per chiarezza e per sottolineatura ci faccia capire Monsignore che il timor di Dio non è fifa non è paura di Dio. Beh mi sembra di averlo detto abbastanza distesamente si tratta del rapporto con un padre amorevole a cui si ha paura di far dispiacere a cui si vuol dare solo piacere e ci si tiene a questo si ha paura di perdere la sua amicizia quindi non è la paura verso il tiranno la paura del castigo ma è la paura di perdere l'amore la paura di perdere il rapporto. Ho trovato alcune frasi che le farò spiegare inizio della sapienza è il timor di Dio è questa una frase è vero mi faccia capire però direi che è ovvio la sapienza che è un altro dono dello spirito è il gusto delle cose belle è il gusto delle cose di Dio il gusto di questo rapporto filiale perché c'è un altro dono che fa passare la paura del di un Dio tiranno ed è il dono della pietà la pietà è un bellissimo dono la pietà in latino non è la pietà il far pietà ma è l'amore che i genitori hanno verso i figli per capire la pietà basta pensare a una frase di Osea io sono come uno che stringe il suo bambino alle guance questo è la pietà di Dio verso di noi poi c'è la pietà nostra verso Dio l'amore filiale la beata Morosini diceva io mi sento tra le braccia di Dio come un bambino neonato e il Salmo 131 dice io sono come un bimbo svezzato in braccia a sua madre se lei ci mette il dono della pietà e il dono della sapienza che è questo gusto delle cose di Dio lei capisce bene che davvero l'inizio della sapienza è il timor di Dio dopo alla fine magari riprendo il discorso sulla paura perché mi è venuto in mente un qualche cosa ma andiamo avanti grande ricchezza se avrai il timore del Signore che ricchezza è e che grande ricchezza è sicuramente non una ricchezza di soldi ma è una ricchezza di valori è una ricchezza è quella ricchezza che viene dall'amore che riempie il cuore e che riempie la vita è la ricchezza di chi sta bene religiosamente nella sua pelle ecco e le dirò un fatto al cui non si pensa mai quando Salomone diventa re la notte prima non dorme ovviamente e il Signore gli dice oggi che diventi re chiedimi una cosa che io te la do e lui che aveva 17 anni quindi l'età la stupidera dice Signore ti chiedo la sapienza mandami la sapienza che viene da te e il Signore nella Bibbia è detta la meraviglia di Dio come mai non mi hai chiesto la ricchezza come mai non mi hai chiesto la vittoria sui nemici come mai non mi hai chiesto la fortuna con le donne così e dice Signore quando io avrò la sapienza tutto il resto ce l'avrò già nell'enunciazione nell'enunciazione il timor di Dio oggi fa nascere qualche sorriso e provoco ovviamente Monsignore non è più di moda il timor di Dio o no? è vero non è più di moda perché in molti cristiani anche praticanti rimane un po' un'idea del timor di Dio come paura paura del giudizio paura della condanna paura del castigo della vendetta di Dio no? e poi invece c'è tutta la teoria di quelli che a Dio non credono o per i quali Dio non conta e allora il timor di Dio non ha spazio quali sono le persone che non hanno timor di Dio? i padri eterni uno che si crede il padre eterno non non ha timor di Dio non ha timore di nessuno ma in senso di orgoglio scostante gli idolatri quelli che hanno magari paura questo sì degli idoli e guardi che gli idolatri sono anche superstiziosi guardi quante paure ci sono negli atei quante paure ci sono in quelli che non hanno fede loro accusano noi di avere il timor di Dio ma quelli che vivono nella paura e negli scongiuri e nella scaramanzia sono loro quando noi diciamo Monsignore mi viene da sorridere perché si dice spesso e lei me lo deve declinare se no così è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago che un ricco e di ricchezza subito facciamo subito pandan con i soldi e entri nel regno dei cieli la declini perché il chi è ricco facilmente crede di non aver bisogno di nessuno rientra nella categoria dei padri eterni no crede di poter comprare tutto crede di non aver paura di niente c'è una parabola nel Vangelo di un uco dice goditi la vita anima mia che c'hai il magazzino pieno stolto non sai che questa notte ti verrà tolta la tua vita dice il Signore no ma poi ricco anche di presunzione i certi ricchi di cultura no sono altri padri eterni perché al giorno d'oggi se lei vede molti intellettuali ridicolizzano noi cattolici che abbiamo il cosiddetto principio di autorità nei confronti del Papa no ma guardi quanto quanta dipendenza pedisse qua c'è da veramente da pecoroni c'è nei confronti di certi intellettuali che sono dei soloni e niente di più tante volte dei palloni gonfiati no un'altra categoria sono quelli che e qui ci possiamo essere anche noi credenti che prendiamo Dio sotto gamba no e tanti di noi credenti pensano a Dio a Dio buono ma nel senso di un nonno un po' rimbambito ai quali gli puoi fare di tutto che lui sorride sempre non le faccio la prossima domanda giuro che non gliela faccio perché se no la invito a nozze e io non ho voglia di invitarla a nozze le faccio la successiva spesso lei ha già un po' risposto si invoca per i cattolici l'amitezza la riservatezza l'indulgenza la buonarietà quasi si volessero dei cattolici melensi e come si dice spesso senza tonsille o senza attributi signore vede torno a quello che dicevo prima quelli che pensano che Dio sia una specie di bonaccione che si fa andare bene tutto e che voglia così anche da noi hanno un concetto così di del proprio atteggiamento che devono avere nel mondo ma Dio non è mica così se Dio fosse uno che si fa andare bene tutto lei crede che sarebbe venuto giù a farsi mettere in croce per tirarci fuori dalle nostre situazioni ovviamente c'è qualche cosa di forte che mette in pericolo la nostra salvezza ecco perché a Dio non può andare bene tutto e il Dio misericordioso è anche quello che perdona l'adultera perdona Zaccheo tira dentro il mafioso nel numero dei dodici ma è anche quello che prende la sferza e caccia fuori i venditori del tempio no è anche quello che dice per chi da scandalo sarebbe meglio che gli si mettesse una pietra di mulino al collo e solo buttasse in fondo al mare ecco se Dio fosse così ripeto non sarebbe venuto a fare tanto per cambiare le cose riprendo la domanda che non le ho fatto in una scala a timor di Dio da 0 a 10 noi due parto da me e poi vado a lei a timor a timor di Dio io e lei siamo pari a che grado siamo? per lei deve parlare lei e per lei lei io diciamo non sono al vertice del timor di Dio però da 0 a 10 da 0 a 10 è difficile è come quantificare l'amore quanto vuoi bene alla mamma così uno allarga più che può il discorso noi abbiamo una una giaculatoria che dice dolce cuore del mio Gesù fa chiotami sempre più e quando noi pensiamo che il timor di Dio è una forma speciale di amore chiediamo anche di crescere nel timor di Dio che vuol dire crescere nella non superficialità nella non faciloneria nella non banalità nei rapporti con il Signore riprendo un salmo stasera salmi ne ho cercati diversi ne ho citati questo è già il secondo ma ne ho citati idealmente anche altri in un salmo è detto venite figli ascoltatemi vi insegnerò il timore di Dio quando uno come Don Bosco ha capito che cos'è il timor di Dio che è ricchezza che è salvezza non riesce a trattenersi dal fare di tutto per insegnarlo no ecco perché Don Bosco è un maestro educatore in questo senso qui per tenere lontano i ragazzi dal male e dal perdere l'amicizia con Dio la grazia di Dio e per orientarli al bene è come un papà come fa un papà serio che ha capito le cose vere della vita a non avere un vivo desiderio di dirle ai suoi figli e di inculcarle nei figli spesso ho detto guardiamo l'aereopago due volte questa volta vi dico guardiamole due volte ma la seconda prendiamo appunti perché questo timor di Dio è troppo bello Monsignore mamma Margherita era la mamma di Don Bosco nella storia di Don Bosco è scritto mamma Margherita insegnava suo figlio quindi il futuro Don Bosco la disciplina del timor di Dio non si insegna non si insegna più oh Dio non siamo pessimisti magari in forme diverse però io credo che dei papà e delle mamme che non vogliono allevare dei mollaccioni dei rumaconi ma dei campioni non possono religiosamente prescindere dagli input che vengono dalla fede dal rapporto con Dio non possono altrimenti si riduce la fede la religione il rapporto con il Signore a una specie di zucchero vanigliato che si mette sul pane no quello rimane pane ma se io invece nell'impasto metto dentro questo allora il ragazzo la ragazza vengono fuori bene ecco i genitori come fanno a educare in questo senso e come si usa dire in latino verbo è topere con la parola e con la vita pensi un papà che ha voglia di comunicare di suscitare dei valori nel cuore dei figli come parlerà di Dio della virtù dell'amore della pace di tutte queste cose qui e del prezzo che valgono queste cose qui per cui vale la pena anche di fare sacrifici e pensi all'impegno che ci metterà un papà e una mamma per rendere credibili gli insegnamenti che danno con una vita adeguata quando era parroco ma anche qui lei ha citato più volte adesso non lo fa più le mamme Nutella le mamme Nutella che a lei non era molto simpatico no neanche un po' la sua mamma non era Nutella no non era Nutellosa non era Nutellosa perché non le piacciono troppo molli troppo dolci no perché allevano dei lumaconi cioè le mamme che e i papà ovviamente che cercano di risparmiare ogni spifero ai figli che cercano di risparmiare ogni difficoltà con la scusa che abbiamo già patito tanto noi ai figli vogliamo lei provi a pensare che abitudine avranno questi ragazzi di fare dei sacrifici per conquistare qualunque risultato anche in campo in campo sportivo una mamma che ha paura che il figlio sudi e che e che gli mette la sciarpetta continuamente non può andare a fare il giro d'Italia sotto la pioggia e anche le partite di calcio che richiedono allenamenti lunghi lunghi insistenti e fastidiosi quando suo papà veniva dopo la scuola a prendere lei le toglieva dalle spalle lo zaino della Invicta no assolutamente non veniva neanche a prendermi a dire il vero non perché fosse trascurato ma perché era camionista ed era sempre in giro e la mamma pure perché eravamo in tanti perciò la cartella ce la portavamo da soli e andavamo tutti i giorni ed estate anche due volte al giorno a raccogliere legna noi non abbiamo mai comprato la legna e il papà ci dava valore in quel senso ecco perché bisogna gratificare i figli ragazzi grazie a voi io non ho mai speso una lira per comprare la legna ancora nella vita di San Giovanni il Bosco si legge non so se ha detto la mamma o il figlio occorre far digiunare il demonio per non commettere peccati se non la mettiamo la contestualizziamo sembra una butade piccola piccola anche perché secondo me non so se lì era riportata bene quella citazione secondo me la frase va rovesciata non bisogna commettere peccati per far digiunare il diavolo in che senso San Pietro dice che il diavolo è come un leone ruggente che ci circonda cercando chi divorare se noi non facciamo il male facciamo il bene lasciamo a digiunare il diavolo è in quel senso lì che si parla di far digiunare il diavolo non commettere peccati per tenere a digiunare il diavolo io la dico alla mia maniera ma la leggo perché me la sono scritta e non voglio sbagliare né una virgola né un'inflessione perché finisco in dialetto un atteggiamento ispirato dal timor di Dio quello giusto nessuna paura rispetto sincero e leale per tutti franchezza coraggiosa pura da nissù schieffa da negotto lei ecco se il fondamento di questo è religioso il timore di Dio è la base perché il credente ha timore solo di Dio non ha paura di nessuno in più abbiamo già detto e ripetuto che il timore di Dio non è paura ma questo rapporto così radicato e così radicale con il Signore che ci fa desiderare il bene che ci fa evitare con tutte le nostre forze il male è quello che ci porta a non aver bisogno di nessuno non avrai altro Dio all'infuori di me tenga a mente sa perché i romani perseguitavano i cristiani perché i cristiani non avevano paura né dell'imperatore né di Pilato né dei suoi soldati i romani avevano paura dei cristiani probabilmente anche così per finirla i romani avevano paura dei cristiani Neroni li ha perseguiti torno a una frase di prima sulla quale forse non l'ho lasciata dire tutto per chiarezza il timor di Dio non è paura di Dio vuol dire che se qualcuno ce l'ha se la deve lasciar passare ce la deve far passare altrimenti entra in un rapporto con Dio schiavizzante mentre il rapporto con Dio è un rapporto d'amore di fiducia e di fiducia grande proprio perché è un rapporto d'amore non è il rapporto con un tiranno non è il rapporto con un padre padrone non è il rapporto con un giudice o con un maresciallo dei carabinieri ma è il rapporto con un padre che gode della mia vita che gode del mio successo mi vuol bene è pronto a tutto per me e quindi io ho paura ho timore di perdere un rapporto così importante e così prezioso la nostra zona di audience è se è incrementata abbiamo soprattutto lei tanti io conoscenti lei anche amici parroci abbiamo però un parroco in comune che è il parroco di Belsito il parroco di Belsito due settimane fa mi dicono ma io non c'ero che ha fatto una predica un'omelia sul timor di Dio lei c'era perché so che c'era va bene che cosa ha detto il parroco di Belsito sul timor di Dio lui non lei è lui ma io ho sentito che il parroco di Belsito diceva quello che io ho detto adesso ed è riferendomi a lui che ho riferito qui le cose che ha detto e che mi sono piaciute molto perciò se vogliamo lasciare un ricordo ai nostri ascoltatori è quello che lei ripete spesso riguardiamo due volte la trasmissione perché quello che lei scegliendo questo tema mi ha dato l'occasione di esporre e di spiegare è quello che io vorrei che restasse cioè tutto quello che lei ha detto allora che il timor di Dio non è fifa non è paura ma che è l'incipit della sapienza della ricchezza è la ricchezza è bella avremo modo di parlare anche di sapienza fortezza vedremo che cos'è la fortezza che probabilmente non è la fortezza di braccio di ferro non è così allora timor di Dio grazie a quella signora che ci ha dato questo assist perché noi aspettiamo le vostre informazioni e intanto buona sera capitolo 17 degli atti degli apostoli Paolo di Tarso incontra gli intellettuali di Atene nell'Areo Pago l'aula delle loro riunioni e dialogando con loro fa il primo importante tentativo di inculturazione della fede cristiana nel mondo greco l'incontro vitale tra il Vangelo e le aree culturali più diverse sarà lungo tutti i duemila anni della sua storia uno degli impegni più importanti della Chiesa è la sua missione specifica Gesù di Nazareth l'ha creata per questo l'avventura continua anche qui nel nostro mondo